Giovedì 4 dicembre ci troviamo a Torino per il workshop di infoprogetto organizzato dall'ordine degli architetti della provincia di Torino in collaborazione con Action Group Editore. Si parla di arredamento e contract, un tema molto interessante e ne abbiamo parlato con diversi protagonisti. Vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Sono responsabile marketing del gruppo Garofoli, un gruppo che produce porte per interni, quindi è specializzato nella produzione di porte per interni, ma che negli ultimi anni ha ampliato moltissimo la gamma, una gamma che ormai è molto ampia e profonda con una grande varietà di soluzioni in termini di materiali ma anche in termini proprio di tipologia di aperture. Abbiamo una gamma che si estende anche a prodotti tecnici, prodotti tecnici come porte resistenti al fuoco che però interpretiamo in maniera molto interessante dal punto di vista stilistico, nel senso che poi noi ci adattiamo a ogni tipologia di progetto che interpreti diversi stili. e quindi è una gamma molto ampia alla quale ultimamente abbiamo associato una serie di prodotti complementari alle porte. Sono prodotti con i quali sostanzialmente si può realizzare un progetto di interior design a 360 gradi. Sono prodotti quali parquet, boiserie, pareti attrezzate, cabine armadio, addirittura ci siamo spinti alla produzione ultimamente di una linea di porte blindate che hanno il valore aggiunto di essere sostanzialmente identiche da un punto di vista estetico alle porte per interni, quindi mimetizzandosi con queste possono permettere anche al... abbiamo avuto un caso ultimamente di un imprenditore importante che ha voluto realizzare una panic room e quindi ha voluto installare una porta blindata nella zona notte che però si confondesse con una porta normale, con una porta di interni che noi gli abbiamo fornito. Quindi abbiamo anche questo tipo di soluzioni che sono molto particolari. Il mercato in Italia è un mercato difficile, lo sappiamo tutti perché il settore immobiliare è un settore che è in forte crisi. Noi generalmente devo dire che stiamo andando abbastanza bene perché abbiamo comunque una clientela selezionata che è molto attenta alla nostra tipologia di prodotto, una rete distributiva molto fidelizzata e poi devo dire che naturalmente negli ultimi anni ci siamo molto orientati all'estero, ai mercati esteri, nei quali stiamo sviluppando dei bei progetti contract, che ci ha dato l'occasione di far conoscere della Garofoli, che è un'azienda normalmente conosciuta proprio per le porte, per la produzione di porte, di far conoscere una capacità di progettare e di servire il progetto con una serie di prodotti che sono complementari alle porte, che vanno a completare quello che noi definiamo un sistema coordinato di prodotti e soluzioni che possono permettere all'architetto virtualmente di realizzare per intero ad esempio una camera d'albergo, quindi comprese armadiature, compresi piani a cui appoggiare valigia oppure compresi piani con cui realizzare delle scrivanie e quant'altro. Questo ci ha permesso naturalmente di aprire anche qui in questa occasione il nostro campo di interlocutori e quindi poter lavorare con gli architetti sempre più in stretto contatto.